Anche uno degli ultimi scapoli d'oro della tv sta per capitolare. Flavio Insinna infatti starebbe per sposarsi. La futura moglie del popolare conduttore è Grazia Maria Dragani, nata nel 1978, giornalista e autrice Rai che fa parte dello staff creativo di Che Tempo Che Fa. A 51 anni, Flavio Insinna, pur definendosi da sempre estremamente mammone e complicato da gestire, ha dunque deciso di fare il grande passo. Qualche tempo fa l'amatissimo presentatore aveva dichiarato in un'intervista Probabilmente sarà pure passata la donna della mia vita, da sposare e con cui condividere l'esistenza, ma non è successo e non perché non ho incontrato donne che non lo meritassero, tutt'altro penso abbia influito molto anche il lavoro che faccio, che ha travolto forse un po' tutto, per cui mi ci sono dedicato anima e corpo fino a questo momento. Invece a quanto pare ha trovato la donna che lo ha convinto a cambiare radicalmente la sua esistenza. Della coppia non si sa ancora molto, ma Flavio Insinna è da sempre riconosciuto come una persona estremamente riservata. Quello che si sa è che l'8 agosto scorso sono apparse le pubblicazioni sull'albo pretorio del comune di Milano.